Ti ho parlato di te, sai? Progetti delle cose pazzesche. Vabbè, macchina da caffè. Bello! Sì, vabbè, ma in realtà faccio solo il servizio tecnico. Senti, ma tu con questo accento... Non sei lì qua. Sei di Alba. Sono inglese. Ecco perché non ti ho mai vista. No, ma abito qui. Da poco, ma abito qui.